Da Crispi alla crisi di fine secolo Nel luglio del 1887, dopo sei mesi dalla coccente sconfitta di Dogari, De Pretis morì e il re allora chiamò a sostituirlo Francesco Crispi, il primo meridionale alla guida del governo. Era molto diverso da De Pretis sia per carattere che per stile politico. De Pretis era un mediatore, un diplomatico, Crispi invece aveva un carattere forte e irruente. Il nuovo presidente era stato Mazziniano e Garibaldino e quindi repubblicano, aveva partecipato alla spedizione dei Mille, ma nel tempo era diventato sostenitore della monarchia, ammiratore del cancelliere tedesco Bismarck, della sua politica autoritaria e dello stato forte. In politica estera era un sostenitore del colonialismo che voleva un'affermazione dell'Italia in Africa. Crispi fu un protagonista della vita politica italiana per quasi dieci anni, dal 1887 al 1896, in cui quattro volte fu presidente del Consiglio, tranne nel primo governo fu contemporaneamente presidente del Consiglio, ministro degli interni e ministro degli esteri. Mai nessuno da quando l'Italia era unita aveva avuto tanto potere. E allora vediamo quali furono i provvedimenti presi dal suo governo. Innanzitutto è da ricordare la riforma del codice penale approvata nel 1889 con il nome di Codice Zanardelli, dal nome del ministro di Grazie e Giustizia che la propose. Da ricordare perché veniva abolita la pena di morte ancora in vigore nei principali stati europei e sostituita per i reati più gravi dall'ergastolo. La pena di morte sarà reintrodotta dal regime fascista per poi essere definitivamente abolita nella Costituzione del 1948. Inoltre veniva riconosciuta una limitata libertà di sciopero. Sempre nel 1889 fu approvata la legge comunale e provinciale in base alla quale ai consigli comunali potevano partecipare anche i rappresentanti della minoranza e non solo quelli della maggioranza. Nei comuni con più di 10.000 abitanti il sindaco veniva eletto dai consiglieri e non più dal re. Inoltre il presidente della provincia veniva eletto dai consiglieri e non più dal prefetto. Era una legge che veniva incontro alle esigenze di decentramento dei poteri e che consentì le prime affermazioni delle liste dei repubblicani, dei socialisti e dei radicali a livello locale. Tuttavia questa politica di decentramento fu bilanciata da un deciso rafforzamento dei poteri di controllo dei profetti sull'operato dei sindaci. Prefetti che, è utile ricordarlo, dipendevano dal Ministero degli Interni, cioè direttamente da Crispi, e da una legge sulla pubblica sicurezza che aumentava i poteri della polizia durante lo svolgimento di riunioni e manifestazioni pubbliche. Crispi era un convinto anticlericale, infatti si rese protagonista di alcune iniziative contro la Chiesa cattolica italiana. Aboli l'insegnamento religioso nelle scuole primarie, sottrasse il controllo delle istituzioni di beneficenza, le cosiddette opere pie, alle autorità ecclesiastiche. I ministri di culto che si fossero comportati in modo sleale e oltraggioso nei confronti dello Stato italiano e dei suoi rappresentanti sarebbero stati puniti. Ed infine fece costruire a Campo dei Fiori a Roma un monumento a Giordano Bruno, un filosofo, ma anche frate dominicano, vissuto nel Cinquecento che, per le sue idee considerate eretiche, fu condannata a morte dall'inquisizione e bruciato vivo nell'anno 1600 proprio a Piazza Campo dei Fiori a Roma. In politica estera la sua fu una linea ostile alla Francia, con la quale iniziò nel 1888 la famosa guerra delle tariffe, con un rialzo vertiginoso delle stesse che ebbe come risultato la contrazione del 40% dell'esportazione dei prodotti agricoli verso la Francia, che era il più importante partner commerciale per i nostri prodotti agricoli, fatto che danneggiò soprattutto l'agricoltura del sud. Sempre in politica estera cercò di risollevare le sorti dell'Italia dopo la vergogna di Dogali, inviando in Africa orientale rinforzi militari e arrivando con il Negus, cioè l'imperatore dell'Etiopia, Menelik, alla firma del trattato di Uccialli nel 1889, in base al quale venne riconosciuta dal Negus la sovranità dell'Italia sull'Eritrea e il protettorato invece sull'Etiopia. Contemporaneamente si accordava con alcuni sultani per il riconoscimento del nostro paese sulla costa somala, che fu il primo nucleo della Somalia italiana. Erano le premesse per una politica coloniale che avrebbe dovuto essere aggressiva nelle sue intenzioni, ma suscitò questa politica molte perplessità nella maggioranza preoccupata dei costi dell'operazione in un momento in cui il paese stava attraversando una grave crisi economica. Messo in minoranza, Crispi rassegnò le dimissioni e la presidenza del Consiglio prima passò per un breve periodo al conservatore di Rudini e dal maggio del 1892 a Giovanni Giolitti. Un uomo che apparteneva ad una generazione successiva a quella che aveva preso parte al Risorgimento, lui era nato infatti nel 1842, aveva fatto carriera nell'amministrazione statale di cui aveva imparato a conoscere i meccanismi. Era un po' diverso dagli altri, soprattutto riguardo alle agitazioni operai e condadine e delle masse in generale. Lui era convinto che le loro condizioni di lavoro e di vita meritassero ascolto e comprensione, non solo repressione. Certo, condannava la violenza e gli eccessi rivoluzionari socialisti, ma si proponeva di attuare una nuova politica di progresso democratico e sociale nei loro confronti. era così preoccupato della questione sociale che accantonò quella coloniale. E l'occasione per mettere in pratica questo nuovo modo di fare politica non gli mancò. Fin dal 1892 nella Sicilia molti condadini, braccianti, artigiani, piccoli proprietari e lavoratori dello zolfo, esasperati dalle cattive condizioni di vita e di lavoro, si erano organizzati nei fasci dei lavoratori, dove la parola fascio significa unione. Chiedevano migliori condizioni di lavoro, meno tasse e i contadini chiedevano un'equa distribuzione delle terre e per questo insomma cominciarono a protestare. Mentre tutti chiedevano a gran voce la repressione con le armi, Giolitti invece decise di non intervenire con la forza, ma cercò di capire le ragioni della loro protesta. Oggi ci sembra un atteggiamento normale, ma all'epoca era una cosa o sembrava una cosa molto strana. Stesso atteggiamento nei confronti dei cavatori di marmo che scioperavano nella zona di Carrara e della Lunigiana, una zona al confine tra Toscana e Liguria. Questo atteggiamento, che fu definito debole e arrendevole, gli fece perdere il sostegno degli industriali e dei proprietari terrieri, che vedevano in questo suo modo di affrontare le rivolte un segno di debolezza e un pericoloso incendivo a rovesciare l'ordine costituito. Nell'agosto del 1893 si verificò un tragico episodio in Francia. Nella cittadina di Egmort furono massacrati, con una vera e propria caccia all'uomo, una trentina di lavoratori italiani, accusati dai francesi di aver rubato il lavoro ai lavoratori francesi, accettando paghe più basse. Il fatto in cui emerse anche razzismo ed odio nazionalistico diventò un caso politico, quando in un breve processo in Francia i massacratori furono tutti assolti e Giolitti fu accusato di non aver fatto nulla per difendere i nostri connazionali all'estero. Alcuni si spinsero addirittura a chiedere una guerra contro la Francia per vendicare il sangue italiano. Ma ciò che fece cadere Giolitti fu il cosiddetto scandalo della Banca Romana, che portò alla luce irregolarità e corruzioni di alcuni suoi dirigenti, i quali poi per evitare problemi avevano concesso finanziamenti prestiti a diversi politici, sovvenzionando anche le loro campagne elettorali. Invece il processo si istruì nel 1893 e in questo processo lo stesso Giolitti, che tra l'altro aveva fatto nominare senatore proprio il direttore della medesima vanga, diceva lo stesso Giolitti risultò coinvolto e perciò fu costretto a rassegnare le dimissioni. Nel dicembre del 1893 dunque torna al potere Crispi, con grande soddisfazione della maggior parte della borghesia che vedeva in lui l'uomo forte e capace di risolvere i problemi del momento. I primi provvedimenti riguardarono la questione sociale e gli infatti, a differenza di Giolitti, vedeva nelle agitazioni sociali un attentato all'unità e alla sicurezza dello Stato. Perciò sciolse i fasci siciliani, proclamò lo Stato d'assedio, un provvedimento con cui venivano sospese le libertà previste dallo Statuto e applicate il codice penale militare, e mandò in Sicilia tanti soldati che misero in atto una dura repressione con numerosi morti e circa 2000 persone arrestate. Nel 1894 la protesta siciliana era stroncata definitivamente, represse poi anche le manifestazioni in lunigiana e fu sciolto anche il Partito Socialista. Andiamo un po' alla politica estera. Forte di questi successi della politica interna e deciso a riprendere la politica coloniale, cercò di realizzare il sogno dei tanti sostenitori del colonialismo italiano, cioè conquistare l'Etiopia. Con un pretesto che riguardava l'interpretazione di alcune parti del Trattato di Uccialli, ordinò alle truppe italiane presenti in Africa di invadere il territorio etiopico, ma il 1 marzo 1896 ad Adua l'esercito italiano subì una clamorosa sconfitta d'opera delle truppe del Negus Menelik. 7.000 soldati italiani trovarono la morte e 3.000 furono catturati e imbrigionati. Fu la più grave sconfitta coloniale subita da uno Stato europeo. In Italia ci furono manifestazioni contro la guerra e contro chi l'aveva voluta. Crispi si dimisse ed uscì definitivamente di scena ritirandosi a vita privata. Finiva così quella che molti storici hanno chiamato l'età crispina, che come abbiamo detto va dal 1887 al 1896, durante la quale Crispi fu presidente del Consiglio quattro volte con le brevi parentesi dei ministeri di Rudini e Giolitti. Con lui finiva anche il periodo dei governi della sinistra storica. Ultimi eventi di fine secolo. A Crispi successe il marchese Antonio di Rudini, che provvide subito a stipulare la pace di Addis Abeba nell'ottobre del 1896, in base alla quale l'Italia manteneva il possesso coloniale dell'Eritrea e della Somalia, ma rinunciava ad ogni espansione verso l'Etiopia. Cercò di riportare la pace anche con la Francia dopo la guerra delle Tariffe e l'episodio di Egg Mort. Cercò poi un accordo con i socialisti, concesso un'amnistia ai lavoratori che erano stati condannati per le rivolte in Sicilia e in Lunigiana. Tuttavia era una pace apparente. Nel paese c'era una crisi economica gravissima. Nell'estate del 1898 aumentò improvvisamente il prezzo del pane a causa dei cattivi raccolti e anche a causa del blocco delle importazioni dagli Stati Uniti, che erano in guerra con la Spagna per il possesso di Cuba e delle Filippine. Un chilogrammo di pane all'epoca costava mediamente 40 centesimi, circa la metà della paga giornaliera di un operaio. Questo aumento colpì ed esasperò soprattutto i ceti più poveri, con il risultato che scoppiarono spontaneamente violenti tumulti in Romagna, in Puglia, nelle Marche, in Toscana, ma soprattutto a Milano, dove tra il 6 e il 9 maggio 1898 le truppe agli ordini del generale Bava Beccaris, fecero fuoco sulla folla inerme, uccidendo circa 80 persone, secondo le cifre ufficiali, oltre 300 secondo altre fonti, e ferendone comunque tantissimi. Insomma, una carneficina. I tribunali militari inflissero poi con danne severissime ai danni dei socialisti, anche del suo leader Filippo Turati, che fu condannato a 12 anni di carcere, e dei repubblicani radicali. Le organizzazioni socialiste e sindacali vennero sciolte, i giornali delle opposizioni sospese. Il governo applaudì questo generale e addirittura il re Umberto I gli conferì un'alta onorificenza per i servizi resi al paese. Subito dopo, nel giugno del 1898, di Ludinisi di Mese e il re nominò un reazionario confinto il generale Luigi Pellù, seguito poi da Giuseppe Saracco. Pellù all'inizio cercò di riportare il paese alla normalità, ma poi, pressato dagli ambienti più reazionari della Corte e dell'esercito, tendò di limitare il regime parlamentare per mettere a tacere le opposizioni socialiste e repubblicane. Presentò quindi alcuni progetti di legge che ponevano la stamba sotto controllo. Limitavano inoltre il diritto di associazione e di riunione, nonché anche quello di sciopero, ma le opposizioni condussero alla Camera una battaglia durissima attraverso l'ostruzionismo per ritardare o impedire l'approvazione dei provvedimenti. Il tentativo di farli approvare poi, anche senza il passaggio alla Camera, prontamente bocciato dalla Corte di Cassazione, gli fece perdere i pezzi più moderati della maggioranza, per cui si dimise e si andò a nuove elezioni nel giugno del 1900. Ma da queste elezioni uscirono rafforzati socialisti, repubblicani e radicali, oltre alla sinistra liberale di Zanardelli e Giolitti. Allora il re, preso atto del fallimento dei progetti reazionari di Pellù, nominò capo del governo Giuseppe Saracco. Era il 24 giugno dell'anno 1900. Quest'ultimo cercò di riportare la calma nel paese, ma il 29 luglio del 1900 a Monza venne assassinato a colpi di pistola il re Umberto, per mano di Gaetano Bresci, che era un anarchico emigrato in America e che era venuto apposta per uccidere il re e vendicare così le vittime del generale Bavab Caris, al quale, ricordiamolo, questo re aveva dato un'onorificenza per la strage compiuta. L'assassino fu poi processato a Milano, condannato all'ergastolo, morirà in garcere in circostanze mai del tutto chiarite. Al defunto re succedette il figlio di 31 anni, Vittorio Emanuele III, il quale, in seguito ai tragici avvenimenti degli ultimi anni, cercò di riportare la pace nel paese. Con un reggio decreto del novembre 1900 proclamò l'amministia per alcuni reati politici e revocò alcune pene emesse in seguito ai muti del 1898. Affidò poi l'ingarico di formare il nuovo governo a Zanardelli, l'autore del famoso codice penale, il quale chiamò Giolitti al Ministero dell'Interno. Cominciava una nuova fase della vita politica italiana, la cosiddetta Età Giolittiana, caratterizzata da una maggiore apertura della politica ai bisogni del paese.